Le classi quarta L e quarta E del liceo Razio Flacco stanno partecipando al progetto nazionale educazione al cinema, seminare domande. Il progetto punta a formare, grazie ai specialisti del settore, nuove generazioni capaci di guardare film in sala in maniera attiva. I studenti da febbraio a maggio del 2019, in orario curriculare, vedranno 5 film, 3 proiettati in streaming nell'auditorium del liceo e 2 proiettati in un cinema vesuviano. Le velicole selezionate saranno oggetto di analisi nell'ambito di due incontri, con un tutore esperto. Il progetto è coordinato dai docenti Luca Salza e Vincenzo Tucci, reduci da un percorso formativo tenutosi a Roma. Il primo film proiettato è Keeper, regia di Senez. Il film racconta la storia di due quindicenni, molto innamorati, con lei che resta incinta, tra la paura della gravidanza e le gioie di crescere, insieme il bambino. Il secondo film, La terra dell'abbastanza, racconta la tragedia di due amici nella periferia di Roma, Mirko e Manolo, che investono e uccidono un malavitoso pentito, finendo così coinvolti nella criminalità del quartiere.